Buonasera, sono qua per fare coming out, so che non ci crederete, ma devo compensare una cosa, è tutta la vita che io sono russa. Sono Natalia Vestilisciana, si pronuncia così, ma dico di chiamarmi la nata perché è più facile per voi, meno interessante per me. Una volta un tizio ha provato di bruciare il mio nome, no non è morto, e mi ha chiamato Natalina Vesilina. A quel punto ho pensato ad iniziare a fare la carriera di Bornstein, mi stai già ritenendo. E da poco che lo faccio? La pomica. Ma ogni volta quando salgo sul palco penso come vestirmi, perché so che al pubblico piacere la comicità che fa riflettere. A una parte di voi piacerà anche se non faccio ridere. Purtroppo ci sono donne, gay, devo dare attenzione anche a loro. Tutta mia con tradizione va tutto contro quello che mi hanno disegnato in Russia. Però mi hanno disegnato una cosa importante, fondamentale, che nell'edito bisogna avere obiettivi. Ma quali obiettivi? Il lavoro, la carriera, il successo, altri obiettivi, obiettivi, obiettivi che occupa la che non ho fatto la fotografa. Ah, di moda, seguire la fotografia, ci sono generi diversi. C'è la gente che è appassionata a fotografie di paesaggio, c'è la gente che è appassionata a ritratti, la gente che segue la fotografia di moda, ma la mia preferita è la fotografia di gazzia. Chiedo scusa, magari a qualcuno potrà dar cansi della parola, io proverò di visualizzare, di dire in un altro modo, la mia preferita è la fotografia di organi sessuali maschili. Esiste questo movimento artistico tra i maschi di mandare le foto di loro tesoro alle donne. La fotografia professionista, la critica tantissimo, perché la luce è sempre brutta, come la persona che lo manda, l'inquadratura è sempre orrenda, come la persona che lo manda, e l'orizzonte è sempre stordo, come il pene della persona che lo manda. Perché un maschio non può mandare una foto di suo, farlo, vedendo a un amico fotografo dicendo, ah, sempre ti lamenti che c'è poco lavoro, non hai dato da fare, allora ho raddrizzo il mio. Noi dove siamo molto più fortunati. Ognuno ha un amico che sa utilizzare il porto shampoo, a cui possiamo mandare la foto chiedendo di smaltire un po' i fianchi, aumentare un po' il seno, non posso fare un sguardo intelligente. Ragazzi, non dovete farlo. Andate già bene così come siete, perché per recitare un maschio basta poco, basta mandare la foto di orecchio, che magari è anche il tuo. Da professionista, come ho già detto, io il mondo del genere ho accreditato tantissimo, ma come una donna no, ma perché non ho esperienza. Non ho mai recituto la foto di pesce, pochina, banana, valanzana, cetriolo, farlo, la stessa della stessa. Non ho mai ricevuto la foto di pesce, ma non ho mai subito. Insomma, ma non è una frase di inizio come quando una donna dice non sono mai stata in montagna o non ho mai mangiato sushi, vuol dire che mi piacerebbe andare in montagna e mangiare sushi. Io non vorrei che la capito così, non voglio ora prendere il mio cellulare e provare il tutto, perché io non faccio la volontaria di Greenpeace, non vorrei provare sul mio cellulare la lista completa di uccelli in miei descrizioni. E di gente che non ho mai ricevuto la foto di Mattarello. Non so come reagire, perché sono consapevole di essere qualcosa di particolare, di diverso, ma in senso buono e in senso brutto. Sono una borsa di Dior? Ho un marito più pesa, sai? E questo dubbio non poteva mai, guarda, nella mia testa, se io non avessi mai controllato il cellulare del mio ex. Non so tutto da fare, lo ammetto, ma anche io ogni tanto mi scappolo. Noi ci siamo lasciati per un po', poi di nuovo tornati insieme. Io ovviamente volevo essere sicura, come ogni donna nelle situazioni del genere, che anche lui si divertito parecchio per questi due mesi. Ho controllato Whatsapp, però tutti i chat sono stati cancellati, quindi non ero scemo, avevo laureato in filosofia. Io sono russa, ma spionaggio è il nostro cuore preferito. Ho fatto una mossa da spia. Segnatelo, ragazzi. Ho guardato la cartella delle forze spedite sullo zappo. E lì c'era la foto di solo un pistolino. Io sono rimasta male. Perché a me, in più di un anno di rapporto, non ha mai mandato la foto di suo attrezzo. Vuol dire che non era un vero amore? Perché ormai la foto di strumento, il segno di presenti i miei. E se il birino è un belato, vale la borsa di Dior. Beh, dicendo che non mai, 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 che ho avuto la foto di Berga, sarebbe un po' una magia. Perché una volta ho citito un video su Instagram, ovviamente fatto di fotogrammi. C'era un pubblico e il titolo. Penso a te. No, hai spugnato tantissimo. Io so che la trama non è originale. So come va a finire. Dopo aver guardato il video, mi sono accorto che era anche cortometraggio. Nonostante che il protagonista era di colore. io credo che l'hanno preso soltanto per essere politico lì fuori. Ma in questo momento io capito che a me una foto di bastone non serve come un'affermazione di amore da un uomo. va glielo una foto. Ma se vuoi mandare quella foto, manda qualcosa di più originale, qualcosa di più particolare. Mandami una foto di tua carta di credito. però in questo caso, parvanti e regno. Grazie.